perfetto sono le 5 spero che mi sentite tutti buongiorno a tutti da parte mia sono dario corica di fondazione agire e oggi vogliamo parlare di nuovo aziendale come proteggerlo benvenuti al nostro webinar parto subito vi spiego un attimino forse per i meno esperti della piattaforma e poi dopo possiamo entrare nel nel vivo allora magari due parole appunto giusto sulla piattaforma così vi ritrovate un attimino sulla destra avete una dashboard una specie di menu praticamente dove potete scrivere ci sono di varie funzioni tra le quali c'è una funzione chat dovete potete scrivere se avete delle comunicazioni da farci dove vedranno tutti avete anche una sezione questions quindi domande quindi se avete delle domande durante il webinar alla fine vi prego di scriverle già da subito lì quindi cercheremo di fare di lasciare comunque anzi vogliamo lasciare uno spazio per le domande dal pubblico alla fine così da non interrompere in soprattutto i nostri esperti che interroppere un po il discorso e chiaramente cercheremo di nel tempo a disposizione di rispondere a tutti voi nel caso non saremmo in grado per questioni di tempistiche di rispondere a tutti cercheremo di rispondere in seguito poi offline via email se poi ci lasciate il contatto esatto poi passiamo direi che questo per quanto riguarda l'organizzativo per quanto riguarda magari una breve presentazione chi siamo qua oggi oggi siamo qua con due esperti che abbiamo voluto invitare catalin chris che vedete sullo schermo anche in telecamera è un esperto in brevetti dell'istituto federale della proprietà intellettuale di berna catalis magari puoi dire due parole tanto per vedere sì certo grazie grazie a dario buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano mi fa molto piacere di essere qui con voi proverò a portare diciamo l'opinione la vista dell'esperto in brevetti da qui da berna dell'istituto per la proprietà intellettuale sulle domande che guarderemo e spero anche di poter aiutare un po per chiarire qualche punto che forse ancora non è chiaro non è chiaro per tutti grazie grazie catalin appunto come secondo esperto sicuramente complementare all'expertise di catalin abbiamo francesco fabio che è un mandatario italiano e svizzero europeo in marchi e un esperto in brevetti che diamo il benvenuto grazie non so se vuoi dire due parole magari su brevemente di presentazione sì allora buongiorno a tutti ai partecipanti grazie per l'invito in questa breve presentazione io fungerò da anche affiancherò e supporterò catalin per quanto riguarda la parte brevetti andando a specificare qualche informazione in più sulla su cosa possono essere i marchi come andare utilizzare e in generale come gestire nell'interesse delle aziende tutto il patrimonio di proprietà industriale con i marchi brevetti e design per cui ogni tipo di domanda è sempre ben accetta grazie e poi abbiamo anche la nostra collega fiorenza trento che anche lei è in workpan come potete vedere che ci aiuterà soprattutto per le domande a raccogliere e quindi anche a entrerà poi soprattutto alla fine quindi qualora ci fossero delle domande e ci aiuterà nel poterle gestire live ecco perché siamo qua live quindi adesso noi dobbiamo presentare te no non c'è bisogno vuoi dire qualcosa due parole fiorenza non si senti non ti sentiamo hai l'audio eccoci qua no perché buonasera a tutti scusate sono discreta il mio ruolo è molto discreto questa sera lascio agli esperti parlare raccontarvi il tema come ha detto il collega dario io intervengo farò la regia questa sera quindi starò a monitorare sia la chat che soprattutto la sezione domande che porrete e magari faccio una precisazione non c'è bisogno nelle domande che ci mandiate nessuna mail perché essendovi registrati è un dato che già abbiamo e quindi ripeto se non possiamo rispondere a tutte le domande lo faremo in un secondo momento tramite direttamente email vi daranno le risposte quindi adesso sparisco vi ascolto e ci rivediamo più tardi grazie grazie perfetto quindi noi procediamo iniziamo subito entrare in materia e lo facciamo partendo un attimino dalla definizione proprio partiamo dalla definizione stessa di know how se ne parla tanto se ne sente tanto ma in realtà poi non si capisce bene è un concetto appunto anche un inglesismo quindi anche per noi talofoni difficile da comprendere e siamo andati a vedere sull'enciclopedia una delle enciclopedie più famose la Treccani che cosa significa in poche parole insomma leggo quello che c'è scritto è un insieme di conoscenze di carattere tecnico industriale o aziendale per lo più maturate a seguito di attività di ricerca o di esperienze commerciali dotate di un valore economico in quanto detenute da un unico soggetto o da poche persone interessate a valorizzarle in regime di segretezza detta così sembra un po' complicata ma lo scopo di oggi è proprio quello di sviscerare un attimino che cosa vuol dire e poi quali sono le implicazioni anche a livello di proprietà intellettuali e lo andremo a fare appunto con i nostri due esperti quindi come vedete già si intuisce quali sono le parole chiave si inizia a vedere conoscenze tecnico industriali si capisce qualcosina di ricerca c'è anche una componente molto aziendale di segretezza cerchiamo di capire un attimino di più quindi passo subito la parola al nostro esperto Francesco per chiedergli subito ma cosa ne pensa? è una definizione che possiamo accontentarci o magari ci puoi dare qualcosina di più? più pratico allora è chiaramente una definizione giustamente enciclopedica know-how vuol dire sostanzialmente sapere come ma questo know-how se dovessimo andarlo a intendere in una accezione un pochino più generale potremmo andarlo a riferire a tutto ciò che riguarda l'attività di un'azienda quindi la produzione dei prodotti la ricerca il lancio commerciale ad esempio se dovessimo parlare di un'azienda che fa poltrone piuttosto che lampade potremmo andare a parlare di conoscenza di design la particolarità e la ricercatezza oppure dei metodi di processo e di produzione dei prodotti quando questi prodotti possono essere coperti per esempio da brevetto un breve inciso noi abbiamo due grandi famiglie di brevetti senza togliere l'intervento che farà poi Catherine brevetti di processo e brevetti di prodotto o addirittura ci possono essere dei brevetti che riguardano tutte e due le cose comunque queste poi sono informazioni che vedremo più dettagliatamente in seguito il know-how riguarda anche le metodologie di controllo di qualità e di tracciabilità anche perché in questo momento avere un'idea su come, dove nasce e come va a finire un prodotto è di assoluta importanza sempre parte del know-how e tutto ciò che riguarda il settore commerciale quindi avere anche per esempio le proprie metodologie di commercializzazione vi faccio un esempio qualche anno fa una società, mi sembra credo che sia americana, Herbalife aveva lanciato una sorta di nuovo metodo di vendere sul mercato e quindi di fare un marketing multilevel quindi quello può sicuramente essere annoverato fra il know-how aziendale poi conoscere anche i fornitori capire con quali metodologie andare a proporre un prodotto sul mercato ad esempio con l'importazione diretta o l'importazione indiretta e quindi conseguentemente con la distribuzione quindi giusto solo da queste poche parole voi potete capire che in senso ampio il know-how aziendale riguarda in generale tutto ciò che riguarda l'attività vera e propria dell'azienda e molti di questi aspetti sono assolutamente legati al segreto pensate semplicemente alle aziende che operano nel settore tecnologico o dell'hightech o della telefonia o in aziende meccaniche perfetto, grazie per questa precisazione a questo punto direi ci non creiamo ancora un attimino di più e cerchiamo di capire magari adesso abbiamo un po' capito che cos'è abbiamo cercato di capire che cos'è questo know-how questo concetto che è molto ampio abbiamo visto magari per essere magari aiutare anche a concretizzare e portare degli esempi magari sempre Francesco ci potresti illustrare quali strumenti di protezione si possono mettere in atto come azienda cosa posso fare? assolutamente sì ma intendendo sempre il know-how in termini abbastanza ampi noi possiamo quando si tratta di proteggere il know-how abbiamo una sorta di descrizione quindi documenti di descrizione del know-how che possono essere chiaramente redatti all'interno di un'azienda ma per far sì che rimangano sempre protetti e quindi che conservino il loro valore possono essere depositati presso organismi internazionali come ad esempio Safe Creative i cui dati sono addirittura riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra che è l'organismo deputato alla registrazione dei brevetti internazionali e dei marchi internazionali oltre a questo strumento che è molto importante ogni azienda dovrebbe cercare di creare al proprio interno una policy di gestione del know-how in regime di segreto quindi creare al proprio interno e quindi tagliate sulla propria tipologia aziendale tutte quelle piccole norme o guideline interne che servono per far sì che nessuno al di fuori dell'ambito ricercato possa andare a impossessarsi di informazioni che non gli competono di conseguenza quando in particolare nelle aziende ad alta innovazione tecnologica vengono assunti dei profili nella divisione ricerca e sviluppo è consuetudine inserire nei contratti delle clausole di particolare segretezza per tutto ciò che riguarda l'attività dei consulenti incluso il fatto che tutto ciò che loro vanno a creare o a inventare nell'ambito della loro attività anche se sicuramente saranno riconosciuti come inventore di diritto appartengono all'azienda un'altra misura per esempio che può essere studiata all'interno di un'azienda per mantenere il know-how ben isolato è quello di creare sostanzialmente delle zone franche cioè io posso accedere a quest'area esclusivamente se ho il tesserino che mi identifica come una persona che per esempio deve andare nel reparto di produzione per genere alimentario nel reparto di ricerca e sviluppo per quanto riguarda un prodotto particolarmente tecnologico o un prodotto farmaceutico questi sono i principali strumenti diciamo tutto ciò che un'azienda al proprio interno dovrebbe fare perfetto ok grazie mille direi che abbiamo capito che è un tema molto complesso non è facile sicuramente di facile comprensione come detto forse abbiamo capito che parliamo di brevetti parliamo di marchi parliamo di ma non solo parliamo anche di possibilità di praticamente mantenere in segreto alcune informazioni a livello aziendale di deposito di altri tipi di documenti magari adesso passo volentieri la parola a Katalin che è appunto il nostro esperto in brevetti che magari ci può avvicinare un attimino di più sicuramente a uno dei temi forti che è quello dei brevetti che sicuramente interessa a tutti grazie Dario grazie per passarmi la parola i brevetti infatti sono uno dei strumenti principali di protezione del know-how certamente un brevetto si può vedere o l'invenzione che si protegge attraverso un brevetto questo si può vedere come una soluzione tecnica per un problema tecnico questo è un po' teorico però come scritto anche sulla slide può essere come l'ha detto molto bene Francesco prima può essere si può proteggere un prodotto un procedimento ma anche un'applicazione di un procedimento o un'utilizzazione di un prodotto tutte queste cose possono essere soluzioni tecniche per un problema e qui abbiamo due esempi a sinistra una foto di un brevetto di tecnica medicale si tratta di un sistema di resezione tecnica medicale è proprio un campo molto attivo nell'attività brevetuale e anche un campo importante dove tutte le aziende provano a proteggere il proprio know-how attraverso i brevetti a destra un esempio forse ancora più facile da capire un portabiancheria un altro brevetto svizzero certo una soluzione semplice si può dire ma anche queste soluzioni semplici sono importantissime forse quello che è interessante a dire che nel momento in quale si fa una domanda di brevetto si parte dal campo della segretezza perché il brevetto è proprio una sorta di trade off per utilizzare un altro anglicismo una sorta di compromisso tra il pubblico e l'inventore o il detentore del brevetto più tardi e questo detentore o questo inventore è tenuto a divulgare tutto quello che fa parte dell'invenzione e per questa divulgazione riceve una protezione che può andare fino a vent'anni per la sua soluzione tecnica però il pubblico avrà in questo momento accesso a questa soluzione tecnica potrà utilizzarla più tardi e potrà svilupparla anche più tardi questo è anche molto importante forse per dire ancora una piccola cosa la maggior parte dell'informazione tecnica si ritrova nei brevetti o nelle domande di brevetto normalmente si conoscono molto di più le pubblicazioni scientifiche o tecniche però i brevetti e le domande di brevetto sono veramente la fonte più importante di informazione tecnica al mondo grazie direi grazie a te Catalin ma ne approfitto e vorrei approfondire un attimino ancora sicuramente alcuni aspetti sui brevetti appunto sappiamo che per come dire quasi per sentito dio spesso si sa che i brevetti non sono una cosa facile da raggiungere perché è un percorso lungo complicato anche a livello di sia a livello di conoscenze necessarie per scriverlo ma proprio perché ci sono dei veri e propri chiamiamoli criteri di qualità di brevettabilità magari puoi dirci due parole su questi criteri su quali sono le difficoltà ecco che uno può incontrare certo certo con molto piacere come dicevo di punto di vista generale un brevetto deve essere tecnico ma tecnica è molto è una nozione molto ampia quando si parla di brevetti può avere tecnica certamente nella chimica può avere tecnica la tecnica meccanica che conosciamo tutti ma deve essere qualcosa di con un aspetto tecnico dopo per poter proteggere un'invenzione attraverso un brevetto ci vuole la novità la novità deve essere mondiale assoluta che vuol dire questo vuol dire che un'invenzione che si divulga in un brevetto non deve non deve essere divulgata in quel momento in nessun altro modo attraverso il mondo perché dico in nessun altro modo perché un'invenzione potrebbe essere divulgata anche attraverso una una presentazione attraverso una slide come vediamo adesso in questo momento ci sono tante presentazioni che si fanno sui congressi scientifici per esempio e se qualcuno ha presentato quell'invenzione ad un congresso scientifico allora la novità non c'è più e non si potrà più più proteggere per questo è anche importante prima di fare la domanda di brevetto di mantenere l'invenzione o il know-how in segreto prima della domanda di brevetto questo è importantissimo e il terzo criterio è un'invenzione inventiva non ovvia cosa vuol dire vuol dire che prendiamo un esempio molto molto semplice se abbiamo un tavolo diciamo dipinto di blu e dopo qualcuno viene e dice ma io ho avuto un'idea molto interessante voglio voglio produrre lo stesso tavolo ma in rosso quel tavolo in rosso non si potrà proteggere perché si dirà che ognuno anche anche non non siendo un esperto nel campo sa molto bene come come pintare un tavolo in rosso vuol dire che l'invenzione non è inventiva questi sono i criteri generali o i requisiti per ottenere un brevetto grazie perfetto adesso appunto abbiamo capito quali sono un po' i requisiti minimi sappiamo anche che in realtà si va bene oltre questi questi proprio sono i requisiti minimi poi voi come istituto di proprietà intellettuale a livello svizzero siete anche il garante un po' della qualità e andate a vedere anche altri fattori ecco magari quali sono questi altri fattori per cui voi escludete un brevetto o non lo considerate valido ecco che cosa bisogna i requisiti minimi riuscire a dimostrare o insomma questi questi criteri sono sono collegati alla tecnicità come diciamo noi infatti esistono certe certe idee o certi concetti che sono esclusi dalla brevetabilità come come vediamo sullo slide le idee astratte o i concetti astratti le forme non sono non sono brevetabili le tipologie pianti animali metodi di cura medica questo è importante e questo questa esclusione non ha che fare direttamente con la tecnicità ma ha che fare piuttosto con la libertà d'azione di un medico perché se si potesse proteggere diciamo un metodo di cura e qualche qualche medico deve applicare questo metodo in una situazione d'emergenza vuol dire che un altro medico che avrebbe un brevetto proteggendo questo questo metodo potrebbe portare il suo collega che ha dovuto intervenire in situazione d'emergenza potrebbe portare portarlo davanti ad un tribunale e per evitare che questo succedesse questi metodi di cura medica non sono brevettabili però lo sono molto bene li apparecchio i dispositivi dopo abbiamo le famose invenzioni senza applicazione commerciale probabilmente l'esempio più conosciuto in questo campo sono i movimenti perpetui che non si possono proteggere e l'ultimo l'ultimo esempio che vediamo su questa slide è molto importante anche nel contesto attuale sono i programmi per per ordinatori o software come si dice come dice la legge programmi per sé non vuol dire che non si possa proteggere un sistema o un'invenzione che utilizza un ordinatore ma un programma come diciamo Windows di Microsoft non si può proteggere perché si pensa che un programma non è altro che una serie di indicazioni per un essere umano anche un essere umano potrebbe eseguire queste indicazioni e non ha importanza che per eseguirli impegnerebbe forse anche tutta la vita queste sono i principali punti dell'esclusione della brevetabilità grazie grazie Katalin direi che ci hai dato un ottimo ottimi spunti poi dopo magari avremo modo vediamo se riusciamo ancora a tornarci se ci sono delle domande a questo punto passerei un po' un attimino appunto adesso abbiamo visto i brevetti sappiamo che ci sono anche altre forme abbiamo sentito prima da Francesco e vorrei tornare per questo appunto con Francesco a parlare un po' di queste altre forme tra cui appunto forse la più conosciuta è quella dei marchi assolutamente magari ci puoi dire due parole riguardo allora i marchi noi li vediamo quotidianamente nella nostra vita questi sette prodotti su dieci che circolano sono contraddistinti da un marchio ma li conosciamo Ikea Mercedes Just Do It eccetera ma se dovessi dirvi che cos'è un marchio non userei una definizione troppo scolastica perché sui vari libri si dice che il marchio è un segno che serve per distinguere i prodotti di un'azienda o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda in sostanza per differenziarsi sul mercato che è una definizione assolutamente corretta ma se io devo usare una definizione terra a terra io direi semplicemente che il marchio è l'azienda è l'immagine dell'azienda sul mercato esempio pratico io ho una macchina di una certa marca devo cambiarla mi sono trovato bene caso vuole che quella casa automobilistica proprio in questo momento immette sul mercato un nuovo modello sarà per me conseguenza naturale andare a vedere subito quale sarà quel modello perché anche se non ci si crede fra il consumatore quindi fra tutti noi ed un marchio quindi un prodotto si crea una sorta di legame emotivo e lo dimostra il fatto che se io vado a fare la spesa scrivo che devo prendere il detersivo scrivo che devo prendere la birra non vado a scrivere il nome del prodotto specifico però vado a cercarlo istintivamente se non lo trovo ho un attimo di sorpresa per cui devo andare a portare la mia attenzione su qualche altro prodotto e questo dimostra che la mia abitudine quindi la fiducia che io vado a porre sul prodotto quindi sul marchio e su quello che quel marchio racconta sul mercato come storia di un'azienda è un legame importante e fa sì appunto che i prodotti possano essere facilmente scelti da coloro che si sono fidelizzati a quella determinata azienda e quindi fonte di produzione ma andiamo un po' più a fondo vorrei che un attimino abbiamo capito ecco forse è una cosa che già da bambini si imparano i marchi una cosa siamo bombardati ormai di giorno tra pubblicità marchi però sotto sotto un po' dal punto di vista più tecnico io se voglio registrare un marchio che cosa devo avere quali sono le condizioni minime cominciamo a capire un attimo che cosa io posso andare a registrare come marchio se andiamo avanti con le slide diventa tutto più semplice allora io intanto i marchi hanno tutti una caratteristica di base devono essere suscettibili di rappresentazione grafica proprio perché sul mercato mi servono per distinguere i prodotti della mia azienda da quelli di altri io posso registrare parole immagini numeri lettere tonalità cromatiche suoni o combinazioni di questi elementi qui come vedete sulle slide abbiamo un pinguino che se non mi ricordo male dovrebbe contare e distinguere una casa editrice Nike Green beh lo dice da solo e poi il famoso Yahoo per cui noi abbiamo la possibilità di andare a variare o di mettere uno o più elementi io consiglio sempre di usare un marchio di creare un marchio il più semplice possibile per due ragioni proprio pratiche la prima perché chiaramente si ricorderà molto più facilmente perché è più facile ricordare una sola parola o una sola immagine piuttosto che un'accumulazione di tanti elementi e questo è proprio di particolare utilità da un altro punto di vista vi dico che scegliere un marchio semplice mi serve soprattutto per difendermi dalle contraffazioni perché se io per esempio devo difendermi essendo la Nike dal baffo con la scritta Nike quello che viene dopo non è che abbiamo molto spazio di manovra se vuole cercare di imitarmi per cui più il marchio è semplice più facilmente si ricorda e più difficilmente può essere contraffatto e di conseguenza rimane sempre un certo equilibrio sul mercato perché i consumatori sapranno sempre che quel logo quel nome vuol dire una certa azienda e di conseguenza una certa storia e una certa garanzia di qualità questo in parole molto semplici sicuramente una domanda spontanea che mi sorge ma quando quando ha senso registrare un marchio quando beh ha senso registrare un marchio diciamo che la cosa migliore da fare sarebbe sempre quella che si fa anche un pochino per i brevetti di depositare di proteggersi prima di entrare sul mercato perché ovviamente io do anche da un certo punto di vista sotto l'aspetto commerciale un'immagine molto molto importante quando io vado a mettere a fianco del mio loghino il cerchiolino dove vedete scritto TM che vuol dire trademark ovvero marchio depositato piuttosto che la R di registrato questo vuol dire che l'azienda tiene molto al proprio logo tiene molto la propria immagine e la vuole tutelare e ne si riprova il fatto che per esempio nell'ambito del settore automobilistico ci sono dei modelli di macchine che sono sul mercato da non so più quanti anni ad esempio la Golf oppure Panda ci sono tantissimi modelli per cui è sempre meglio andare a proteggersi prima di entrare sul mercato così si crea già subito una sorta di esclusiva ed è quanto aveva detto anche giustamente Catalin manteniamo lo segreto fino a quando non lo andiamo a immettere sul mercato il nostro brevetto così saremo sicuri di avere una sorta di esclusiva sull'uso di un prodotto che è protetto da brevetto o sull'avvento di un prodotto che è contraddistinto da un marchio quindi diciamo sempre in via preventiva Sì vai pure avanti con le slide Allora forse sicuramente ecco adesso per magari come dire come chiudere concludere un po' le varie i vari spunti che ha portato sui marchi come si può riassumere brevemente Assolutamente sì beh il marchio rappresenta semplicemente l'identità aziendale se noi per esempio andiamo a pensare al marchio BMW piuttosto che Mercedes sappiamo esattamente tutti che cosa che cosa vuol dire e quale storia di qualità e quale garanzia offre per il prodotto è una risorsa strategica aziendale perché a volte basta anche solo il nome per aprirsi potenzialmente dei nuovi mercati pensate che molto spesso noi abbiamo fatto entrare nei nostri mercati dei prodotti semplicemente che li avevamo usciti sui mercati parlo di macchine la Mustang o la Buick o altri loghi o altri marchi che sono proprio entrati perché sono stati fatti oggetto di una comunicazione particolarmente efficace da parte dell'azienda proprietaria è chiaro che però la gestione di un marchio è una gestione strategica che richiede molte competenze intanto bisogna capire che cosa bisogna dire dove lo si vuole dire e come lo si vuole dire bisogna avere una visione diciamo di medio ampio raggio per andare a capire in quale momento lanciare un prodotto sul mercato e in che modo perché a fianco della creazione del marchio ci sono tanti altri componenti c'è il marketing che è fondamentale c'è la produzione che è fondamentale c'è il ramo commerciale che è fondamentale e poi ci sono anche le risorse economiche che devono essere investite ricordatevi sempre che un marchio che come vi ho detto prima rappresenta l'azienda anzi l'immagine dell'azienda sul mercato non potrà mai far capire a tutti quanti la propria potenzialità se non è affiancato da un marketing efficace perché il marketing mi serve per capire sul mercato che cosa il pubblico vuole meglio e prima di dei competitors se io lo capisco e riesco a lanciare nella maniera appropriata un messaggio nuovo ovvero un marchio e quindi un prodotto allora io posso avere una strategia vincente sul mercato per cui marchio e marketing sono due lati della stessa medaglia che non andrebbero mai separati questo vi dimostra proprio che la gestione generale non solo del marchio ma anche del brevetto e anche del design richiede l'intervento di tutte le sinergie aziendali e non delle sinergie generalmente deputate a queste attività come non so l'ufficio di creazione di una casa di moda la divisione di ricerca e sviluppo di un'azienda tecnologica spero di essere stato chiaro e se non lo fosse avete la possibilità sempre di farci domande poi e cercheremo di rispondere io direi facciamo un altro passo avanti andiamo a vedere un altro di questi know-how che sappiamo che è il design che è anche un altro aspetto che è possibile andare a proteggere magari ci puoi dire due parole riguardo a questo concetto il design il design è assolutamente un elemento fondamentale per un'industria specialmente quando ci tratta di prodotti perché ovviamente il design mi va a proteggere tutto ciò che riguarda l'estetica la forma i colori i materiali e noi ovviamente come persone siamo portati a scegliere tutto ciò che è bello e tutto ciò che è comodo abbiamo addirittura i mouse o le tastiere che sono ergonomiche abbiamo non so la poltrona piuttosto che un qualsiasi altro oggetto che ovviamente è di particolare design e quindi tutto ciò che riguarda l'estetica e tutto ciò che serve per circondarci nel nostro vivere quotidiano fa parte del design vale lo stesso concetto che è stato detto anche quando si parlava di brevetti deve essere ovviamente un oggetto che ha una sua caratteristica di unicità e di originalità e nei limiti del possibile non deve già essere presente sul mercato in forma identica o in forma troppo simile è chiaro che è interesse dell'azienda stessa andare a fare queste prime verifiche ma è chiaro che comunque molto dipende anche dalla creatività del designer se noi pensiamo per esempio a Pininfarina per non fare il nome di uno dei più famosi designer di automobili al mondo beh lui crea delle cose che sono semplicemente geniali bellissime che sono state riconosciute in tutto il mondo per cui in sintesi il design ci circonda in ogni momento anche la sede dove siamo seduti noi potrebbe essere oggetto di design potrebbe esserlo una bottiglia di acqua o un paio di scarpe o addirittura un telefono o un layout di una qualsiasi pagina che noi possiamo vedere quindi il design è effettivamente un elemento molto presente nella nostra vita e che ha un grandissimo valore per un'azienda e vorrei anche aggiungere che anche il design è un fattore di identificazione molto forte con i prodotti se pensiamo alla famosa bottiglia di coca cola è probabilmente quello che vediamo lì ognuno che entra in un negozio va a vedere le bottiglie di coca cola anche se non sa che si tratta di coca cola secondo il design secondo la forma dirà questa deve essere coca cola vale anche adesso per il telefonino per l'iPhone che tutti riconoscono allora e anche per le macchine anche il design è un fattore di identificazione fortissimo con i prodotti se vado a mettere una Ferrari vado a togliere tutti i vari stemmi si riconosce subito che una Ferrari piuttosto che una Porsche o una Lamborghini quindi questo è fondamentale magari solo brevemente per capire la domanda che mi sorge spontanea è quali forme oggetti si possono proteggere cioè io posso prendere qualsiasi oggetto e registrarlo? ovviamente deve avere il carattere un po' dell'originalità e dell'unicità comunque noi possiamo andare a proteggere tutto ciò che riguarda l'esteriorità del prodotto quindi anche i colori i materiali e anche le forme a condizione che però che la forma non mi serva per ottenere un risultato tecnico per essere più esplicito non può essere depositato come design la classica chiave inglese perché quella forma particolare mi serve per prendere il bullone stringerò ad allargarlo ma in generale tutto ciò che riguarda l'estetica purché abbia una sorta di unicità appunto può essere oggetto e proteggibile tranquillamente come design sì forse posso posso anche raggiungere su questo punto che esattamente come dicevi Francesco a volte abbiamo delle domande di brevetto che alla fine si ritrovano ad essere delle domande di protezione di un design o viceversa perché se se gli elementi diciamo della forma come hai detto tu per la chiave inglesa servono per una soluzione tecnica per fare qualcosa di tecnico allora si possono proteggere attraverso un brevetto ma se no come hai detto molto bene si deve andare per la protezione del design tutto ciò che è estetica quindi che non ha una il cui scopo principale non sia tecnico allora può essere chiaramente protetto come design faccio solo un piccolo inciso c'è un'altra figura diciamo nell'ambito della proprietà industriale che non è prevista qui in Svizzera che sono i modelli di utilità che sono riconosciuti da alcuni ordinamenti e che sono una via di mezzo fra un design ad un brevetto diciamo non hanno le caratteristiche piene dell'uno e dell'altro e allora alcuni stati hanno creato questa figura del modello di utilità penso che Catarin sia d'accordo su questo certamente certamente grazie per questa precisazione ok direi che appunto adesso abbiamo visto i brevetti abbiamo visto i marchi abbiamo visto i design sono tutti aspetti della protezione nel know-how adesso voglio fare un passo indietro torno indietro a un livello come dire più di grande prospettiva e vi chiedo perché appunto i nostri interlocutori sono più appunto piccoli di imprese quindi per quale motivo un imprenditore una piccola media impresa dovrebbe dovrebbe proteggere il proprio know-how quali sono le motivazioni che dovrebbero portare o per cui vale la pena di investire del tempo ecco in questi aspetti Catarin vuoi cominciare tu che poi ti seguo come preferisci sì posso posso cominciare io per me un aspetto importantissimo è per poter bloccare potenziali concurenti sul mercato e per avere la priorità se non se non si protegge il know-how sia attraverso un brevetto un marchio un design dopo si si possono avere dei problemi importanti io posso posso raccontare una piccola storia dalla mia esperienza professionale che lavoravo in un'azienda che fabbricava delle pompe di insulina per diabetici e ad un certo momento si sono reso conti che un competitore aveva dei brevetti molto forti e hanno dovuto lavorare per anni per poter per poter trovare delle soluzioni per contornare più o meno questi brevetti quello che ha fatto ha fatto fare degli sforzi tremendi che non avessero stati necessari se esistevano esistava una protezione brevettuale già dall'inizio per me questa questa è la parte molto importante per avere la priorità sul mercato frente a dei potenziali competitori forse poi sicuramente puoi raggiungere Francesco dei punti importanti questo è anche molto importante da un punto di vista dell'immagine perché chiaramente quando un'azienda si presenta sul mercato come titolare di una tecnologia in esclusiva sicuramente diventa molto più appetibile per i consumatori e di conseguenza può portare ad avere una più ampia fetta di mercato inoltre è importante depositarli perché è chiaro che lo può sfruttare direttamente o lo può anche commercializzare e questo mi porta a creare un'altra cosa molto importante che è l'indotto perché non sempre le aziende possono fare tutto al proprio interno però se lo progettano depositano il brevetto prima di metterlo sul mercato possono poi dare all'esterno ad altre aziende che ne so il compito di creare il sistema frenante di una nuova macchina oppure dei particolari filtri per delle acque e quindi questo vuol dire sicuramente prendere il proprio brevetto ma renderlo fruibile a più persone quindi creare più indotto e quindi questo è un beneficio solamente per il mercato poi mi serve soprattutto per impedire che qualcuno possa cercare di violare il mio brevetto perché anche se può essere difficile pensarlo ma quando si vede su un prodotto patent pending oppure patented oppure marchio depositato ci si pensa un pochino su perché se un'azienda investe tanti soldi in particolare quelle tecnologiche per ricerca sviluppo innovazione nessuna azienda lavora per la gloria parliamoci chiaro quindi se queste cose vengono immesse sul mercato vuol dire che l'azienda sa che ci sono strumenti adeguati per tutelare i propri investimenti vi faccio solo un piccolo esempio può capitare a tutti di prendere una medicina una pastiglia per il mal di testa dietro a questo nostro semplicissimo gesto ci sono anni di ricerca di sviluppo di materiali di personale di corsi di formazione che un'azienda farmaceutica fa inizia e magari finisce dopo 5-6 anni come può pensare un'azienda di stare in piedi se butto sul mercato 5-6 anni di lavoro alla cieca senza essere sicuro di potersi proteggere questo significa come altro lato della medaglia che la protezione della proprietà intellettuale è fondamentale è importante ma soprattutto è efficace meglio farlo prima progettare prima nel medio e lungo periodo che cosa si vuol fare e proteggersi piuttosto che rischiare di fare dei grossi investimenti ma di poi perderli inoltre questi titoli questi brevetti questi marchi servono anche per procurare un cash flow io posso dare in licenza per la distribuzione per la produzione ad aziende dislocate su altri territori ad esempio molti anni fa faccio un esempio la Fiat aveva prodotto una macchina molto piccola la 126 che era prodotta in Polonia quindi per mandare fuori quindi per far girare la tecnologia e di conseguenza per far girare anche tutto il mercato quanto valgono questi brevetti quanto valgono questi marchi è un aspetto molto importante vi dico solo per esempio che il marchio della Coca Cola vale oltre 10 miliardi di dollari per cui noi potremmo anche avere all'interno delle nostre aziende un patrimonio di cui non siamo attualmente consapevoli ma in ogni caso tutto ciò che viene speso nell'ambito dei brevetti dei marchi dei design viene inserito nei bilanci e spesso e volentieri gli stati incluso il Ticino per favorire lo sviluppo e la ricerca tecnologica fanno anche dei bandi dove chi può partecipare esibendo dei brevetti piuttosto che altri o anche magari una volta dei marchi ha delle facilitazioni ha degli sconti comunque ha delle procedure molto più efficaci per avere un vantaggio economico ma soprattutto questo mi va a indicare nel deposito di tutto il know-how quindi brevetti design e marchi la posizione che io voglio andare ad avere su un certo mercato quindi più mi propongo innovativo più mi propongo attento alle esigenze del mercato più io devo stimolare la concorrenza a cercare di superarmi e quindi a poter offrire sul mercato una maggiore qualità e varietà di prodotti che non mi sembra una cosa da poco avrei anche un commento da fare quello che ha detto Francesco sul cash flow soprattutto forse per gli start-up per le piccole aziende che ci stanno ascoltando è molto importante anche quando si cercano investitori di poter presentare dei brevetti dei marchi validi perché perché veramente sono sono anche un valore che interessa ad ogni investitore proprio ieri ho visto anche attraverso un webinar una conferenza a Berna sui start-up e dicevano che questo era uno dei punti principali che può presentare un start-up per poter raccogliere soldi attraverso delle investizioni ecco giungo solo una cosa io faccio un caso pratico mio ho un cliente che sta cercando dei partner ce ne sono interessati ma che ma la prima cosa che questi tre nuovi potenziali partner hanno chiesto ma hai depositato il brevetto quindi stiamo lavorando per fare il brevetto perché il brevetto vuol dire ovviamente una sorta di garanzia per chi entra in un certo settore industriale che quel prodotto quel progetto ha una sua finalità e soprattutto ha una sua forza di protezione e di penetrazione del mercato perfetto allora direi che abbiamo avuto più che sufficienti motivi per spronare e stimolare i nostri imprenditori a stimolare da fatto a pensare di andare a registrare e proteggere che sia brevetti marchi eccetera quello che abbiamo visto adesso volevo fare una velocissima andare a vedere un attimino perché appunto avete visto sono concetti complessi e richiedono appunto una strategia quasi aziendale e di conoscenza del mercato quali sono ecco questi forse i punti chiave con imprenditore deve tener conto quando prima di iniziare a buttarsi a registrare qualcosa quali sono sicuramente quello di la prima cosa da fare è non fare un salto alla cieca quindi se si vuole lanciare sul prodotto un sul mercato che non scuso un prodotto particolarmente tecnologico vale sicuramente la pena di fare una verifica fra i brevetti depositati che si chiamano stato dell'arte che è una cosa molto importante perché mi dà sicuramente una chiave di lettura del livello di tecnologia a cui sono arrivati i nostri competitors perché vedete vi faccio un esempio molto pratico quando io parlo delle ricerche con i clienti quando li ricevo e le suggerisco loro dicono no ma non si preoccupi guardi io sono nel settore da 30 anni e so esattamente cosa fanno i miei competitors siccome ho un cliente e non bisognerebbe mai dal punto di vista commerciale dire no io dico sempre è corretto quello che dice lei però più che sapere quello che fanno i suoi competitors lei sa ciò che i suoi competitors vogliono che sappia perché io non so se quel prodotto che lei vuole superare è frutto di un solo brevetto oppure di più brevetti che sostanzialmente messi uno dietro l'altro hanno rappresentato una sorta di percorso che mi ha portato poi al prodotto principale e se io devo lanciare sul mercato un prodotto nuovo e lo voglio proteggere io devo superare complessivamente il livello di inventiva quindi di novità tecnica che io vado a trovare nel prodotto di cui mi sto occupando ma anche in quelli che lo hanno preceduto questo dal punto di vista proprio così preliminare in ogni caso perché vanno depositati perché bisogna proteggerli bisogna farli nell'ambito del business plan aziendale principalmente i criteri sono questi chiaro i paesi dove si produce i paesi dove si vende i paesi dove sono i concorrenti o i contraffattori i paesi dove i contraffattori potrebbero vendere ma anche e questo è molto importante i paesi di possibile interesse futuro quindi il discorso della protezione del marchio del brevetto del design non deve riguardare solo l'immediato ma deve essere visto nel medio lungo periodo e concludo dicendo una cosa credetemi depositare un marchio o depositare un brevetto di per sé è una procedura grazie a quello che ha messo anche l'ufficio di Berna in piedi è una procedura estremamente semplice che si fa in pochissimi minuti io se mi metto adesso in due minuti vi deposito un marchio e in cinque minuti vi do il numero della domanda tutta la parte più importante viene fatta prima quando si studia e si valuta il brevetto lo fanno i consulenti per i clienti e lo fa l'ufficio nell'interesse delle aziende è questo veramente l'elemento più delicato del nostro lavoro quello di affiancare quindi di lavorare con le aziende non per le aziende quindi fianco a fianco come se fossimo un unico team per capire non soltanto dove andare a produrre cosa come quando e perché ma anche metterlo giù nella forma migliore soprattutto in ambito brevettuale che è un argomento di particolare importanza e delicatezza perfetto direi che anche qua abbiamo già quasi una strategia aziendale quasi solo da mettere in pratica assolutamente non per niente infatti anche l'ufficio aiuta molto le aziende perché propone la possibilità di fare delle ricerche e di dare il risultato di queste ricerche che possono dare un'idea alle aziende sì grazie Francesco per averlo sottolineato sì sono queste ricerche che noi chiamiamo ricerche assistite e che penso sono veramente un aiuto importante per le aziende e qua mi permette di passare direttamente appunto alla prossima slide come l'avete già detto voi e qua rispondo io perché l'avete già praticamente nominato a chi mi devo rivolgere chiaramente le aziende non sono lasciate se stesse ma ci sono studi specializzati in proprietà intellettuale c'è l'ufficio nazionale di competenze che appunto oggi rappresentato qua da Catalin con tutta una serie di esperti sempre a disposizione e chiaramente c'è Fondazione Agire che se vi siete chiaramente da anche un supporto e vi aiuta a trovarvi entro appunto entro queste condizioni quadro e a trovare il giusto interlocutore ma appunto siccome siamo tra imprenditori a me piace sempre anche andare un po' al sodo ecco abbiamo capito cosa sono abbiamo capito che c'è una strategia abbiamo capito che ci vogliono degli specialisti certo tutto mi sa di non così facile ecco ma quanto deve spendere un imprenditore per registrare un brevetto per un marchio cosa deve mettere in conto ecco allora io faccio una premessa che riguarda sia i marchi sia i brevetti poi lascerò parlare Catalin data l'importanza di tutti questi di questi argomenti di cui stiamo parlando sono state create delle convenzioni sia in ambito brevetti che in ambito marchi che permettono la diffusione dei loghi e della tecnologia in maniera rapida in maniera semplice e anche economicamente conveniente praticamente in quasi tutto il mondo perché noi abbiamo la possibilità attraverso per esempio la procedura di registrazione di un brevetto internazionale di coprire contemporaneamente fino a 163 paesi con una sola domanda e vari step della procedura in ogni caso sappiate che tutti questi titoli quindi brevetti marchi design sono degli strumenti a disposizione delle aziende che sono estremamente versatili e quindi coloro che sono diciamo a lavorare dietro le quinte quindi l'IPI l'istituto e i nuovi studi di consulenza riusciamo in base alle esigenze dei clienti a cucire un diciamo una sorta di preventivo di piano che vada a rispettare appieno le esigenze che hanno le aziende ma anche contenendo i costi aggiungo solo una cosa le tasse per depositare un marchio sono direi piuttosto contenute si coprono tre classi di prodotti e servizi per dieci anni con 550 franchi poi chiaro ci sono le competenze del consulente e la stessa cosa adesso lasciare la parola catering vale anche per i brevetti il marchio può essere portato all'estero con le stesse con convenzioni simili a quelle che ci sono per i brevetti in Europa e a livello internazionale per cui non facciamoci la testa pensando che si debbano spendere chissà quali cifre folli può essere una cifra minima può essere una cifra un pochino più alta ma sicuramente considerate che grazie anche alla politica che fa l'ufficio nazionale si riesce sempre a creare un pacchetto a misura e nella possibilità di un'azienda per fargli ottenere il massimo del risultato con il minimo dello sforzo adesso lascio a Kathleen grazie Francesco sì certo per il brevetto vale praticamente quello che ha detto Francesco qui sono rappresentati i costi primo per la Svizzera dopo IP e l'ufficio per depore una domanda di brevetto europea che dopo può proteggere l'invenzione nei vari paesi europei e dopo quello che c'è scritto PCT sarebbe una domanda di brevetto internazionale con la quale si può espandere il brevetto la domanda di brevetto a vari paesi attraverso il mondo come si può vedere anche dalla figura i costi certo sono più alti quando si va verso l'estero infatti in Svizzera i costi sono contenuti per depore una domanda di brevetto qui all'istituto ci vuole una tassa di 200 franchi e dopo c'è anche una tassa di esaminazione di 500 franchi e dopo certo i costi dei consulenti ma qui vedono una cifra tra 5 e 7 mila franchi e una cifra indicatoria come diceva Francesco nei casi individuali può variare normalmente o sempre si badisce a a a a a a dei costi più piccoli e dei costi minori possibili questi costi sono anche collegati a quello che Francesco diceva prima dove si vuole proteggere perché quanto il numero dei paesi dove si vuole avere protezione a garantisce in questo caso saranno più importanti anche i costi per questo ci vuole un piano molto chiaro già dall'inizio per sapere dove si vuole proteggere un prodotto o un procedimento o quello che sia un'invenzione in generale grazie ecco aggiungo solo una piccola cosa per quanto riguarda il brevetti le due convenzioni sui brevetti brevetto europeo e brevetto internazionale esiste una caratteristica che è assolutamente importantissima per le aziende non bisogna nel momento in cui si decide una procedura europea o una procedura internazionale andare subito a selezionare i paesi che aderistono rispettivamente alle due convenzioni perché per facilitare lo sviluppo della tecnologia e la pianificazione di un'azienda d'ufficio nel momento in cui ho deposto la domanda prenoto virtualmente tutti i paesi per il brevetto europeo e tutti i paesi per il brevetto internazionale sono tutti prenotati per cui anche se io al momento non so se voglio andare in Asia piuttosto che negli Stati Uniti piuttosto che in Corea del Sud ho tempo e si parla non di giorni o di mesi ma di anni per andare a mettere a fuoco bene lo sviluppo commerciale lo sviluppo tecnologico e alla fine dopo aver creato magari una valida rete commerciale o dei rapporti di di collaborazione anche delle joint venture andare a fare una procedura che si chiama di convalida quindi richiedere che il diritto nato dalla mia domanda venga riconosciuto anche in altri paesi proprio tagliato perfettamente in base alle aziende commerciali di quell'azienda quindi non è necessario sapere tutto subito ma magari sapere mi interessa più l'Europa oppure fuori dall'Europa i paesi poi verranno in seguito con tutta calma perfetto allora a questo punto visto che anche i tempi che si stringono siamo già diciamo ancora vorremmo essere sicuramente entro un'ora quindi concludo e vorrei concludere un po' riassumendo quanto abbiamo discusso oggi quanto abbiamo visto quanto abbiamo sentito appunto dai nostri due esperti e mi permetto di darvi questi quattro come esitetti take home message sicuramente il primo abbiamo capito che il know-how aziendale è sicuramente un vantaggio competitivo è un è un qualcosa che a livello si sviluppa proprio a livello strategico dell'azienda e questo si può solo fare appunto proteggendo e valorizzando ciò che si ha in azienda assolutamente come si può fare si può fare attraverso i brevetti e cosa sono i brevetti sono praticamente un diritto esclusivo sullo sfruttamento commerciale di una tecnologia propria esatto che rappresenta un vantaggio sul mercato perché ogni brevetto rappresenta sempre un gradino in più nell'ambito della tecnologia quindi un miglioramento per quanto riguarda i marchi design appunto abbiamo visto che invece sono molto più legati all'identificazione al branding quindi alla differenziazione e quindi sono legati un po' al concetto del marketing strategico si parla anche di Swiss Made ad esempio quindi di prodotti visto che la Svizzera ha un elevato un'elevata tecnologia lo Swiss Made è un nome sul mercato ad esempio e tra l'altro adesso è protetto definito molto bene attraverso la legge che abbiamo già da due o tre anni la famosa legge della Swiss Nest esatto per questo che ho fatto un riferimento al Caterine perfetto lasciatemi concludere appunto tutto per dire abbiamo visto veramente tanto oggi lo so che era tanta ma vorrei lasciare un po' di spazio anche alle domande so che ci sono delle domande e niente volevo anche concludere dicendo che come avete visto sono temi complessi quindi richiedono anche degli specialisti non è possibile fare tutto da soli e per questo appunto che vi rimandiamo alle entità che abbiamo indicato sopra uno in primis è l'istituto di proprietà intellettuale di Berna e le altre sono i vari uffici brevetti e marchi che sono specializzati in queste tematiche in queste tematiche ringrazio già adesso subito i nostri due esperti relatori grazie direi che lascio la parola subito a Fiorenza visto che ci sono già delle domande sì grazie Dario vi faccio i complimenti perché siete stati molto chiari e esaustivi abbiamo proprio domanda allora io inizio dalla fine ho Giorgio che mi chiede praticamente quanto tempo medio è previsto fra la sottomissione di un brevetto e l'ottenimento del brevetto spesso in Svizzera da noi all'istituto pensiamo normalmente in termini di due a due anni e mezza normalmente e il tempo che prende però è molto importante dire che una volta che la domanda è stata già depositata certo non c'è ancora la protezione legale ma la protezione sull'idea stessa già c'è perché come si dice l'inventore o l'azienda ha già la priorità su questa idea e questo è molto importante da sapere ok grazie ho un'altra domanda da parte di Francesco che l'avrei fatta anch'io perché credo Catalin tu hai parlato adesso forse mi confondo del fatto di mantenere la certa segretezza quando si vuole brevettare una tecnologia o qualcosa un oggetto e Francesco ci chiede ma una NDA serve a proteggere la validità di un futuro brevetto perché giustamente dice a volte su alcuni prodotti abbiamo bisogno già da subito di lavorare con fornitori o potenziali investitori ma io direi che di far di far firmare veramente una NDA se si deve parlare dell'idea prima di depore la domanda di brevetto ed essenziale perché se più tardi questo fornitore faccia uno uno sbuco prima prima del deposito della domanda si potrà dire ma noi abbiamo avuto la NDA non avrebbe queste informazioni non si dovevano rilasciare allora questo è molto importante certo grazie poi ho Lorenzo che ci chiede si può avere qualche dettaglio in più sulla brevettabilità del discorso che si è fatto sui software soprattutto quando il software è collegato a un dispositivo fisico quando il software è collegato a un dispositivo fisico normalmente non ci sono problemi l'esempio più famoso più conosciuto probabilmente è quello dell'imbedded software forse proprio a quello si sta riferendo la domanda quando in un apparecchio c'è un software che per una per una funzionalità qualsiasi in questo caso normalmente non è un problema il problema è solo se qualcuno dice voglio proteggere un programma un programma per sé senza un collegamento a qualcosa di fisico per fare un esempio molto semplice pensiamo a tutte le apparecchiature medicali che lavorano con dei software che magari stabiliscono che una certa medicina deve essere somministrata ogni x minuti in una quantità minima o anche alla telemedicina quindi il passaggio di dati avviene tramite macchine che hanno al loro interno un software quindi quando il software ha un'applicabilità industriale all'interno di una macchina allora viene protetto ma non di per sé certamente questo è un esempio molto chiaro credo grazie sì ho ancora una domanda che chiede si può fare un brevetto di miglioramento o un'integrazione di un brevetto precedente infatti la maggioranza dei brevetti sono miglioramenti di brevetti precedenti o di domande ai brevetto precedenti infatti nella maggioranza delle domande di brevetto c'è un primo non deve essere primo ma c'è un capitolo anche sullo stato dell'arte conosciuto dove si citano altri brevetti e dopo partendo da questi brevetti si migliorano le soluzioni tecniche aggiungo un altro particolare importante quando si deposita un brevetto e poi dopo si chiede che i diritti vengano riconosciuti in un altro paese per esempio attraverso il brevetto europeo è possibile andare a fare questo ulteriore deposito in una forma leggermente diversa rispetto al brevetto che è stato originariamente depositato purché resti sempre nel limite dell'invenzione di cui il brevetto si occupa proprio perché la tecnologia va avanti e la legislazione giustamente prevede che ci sia questa possibilità di leggera variazione per cui anche questo rappresenta un ulteriore sviluppo all'interno di un brevetto già nuovo ok grazie io mi permetto di porvi anche io una domanda perché ho una curiosità dato il mio particolare mestiere oggi come oggi si vede sempre di più che i grandi marchi spesso si modificano tipo google comunque tutti hanno un po' cambiato le linee arrotondato diciamo che seguono un po' i trend in quel caso va rifatta da zero la protezione del marchio o anche quella da considerare una modifica di un marchio già registrato bisogna vedere allora in linea di principi in Svizzera vi è una regola molto molto logica cioè se si deposita il marchio in caratteri standard io poi potrò andarlo a variare sul mercato in qualsiasi modalità e quindi non avrò la necessità poi di doverlo ridepositare quando vado a cambiare per esempio il font nel momento che entra sul mercato si può variare e si potrebbe anche starci un nuovo deposto quando c'è una forma particolarmente diversa perché si dice che non devono variare diciamo devono variare gli elementi essenziali ma non in maniera così importante da creare un marchio nuovo è chiaro che abbiamo noi dei marchi che sono stati depositati in carattere estremamente semplici e che si sono ripetuti nel corso degli anni senza necessità di fare nuovi deposti proprio perché c'erano delle variazioni magari nel colore nella forma delle lettere pensiamo ecco mi viene in mente quando è stata rilanciata qualche anno fa la nuova Panda la prima volta uscita la Panda era scritta proprio in caratteri standard leggermente in cursivo proprio normale adesso andiamo a vedere che è su uno scudetto grigio con fondo rosso con le lettere più arrotondate non è stato oggetto di un rideposito ma è semplicemente stata una variazione poi variare il nome sul mercato è anche un'esigenza che deriva dal mercato stesso perché possono cambiare i gusti dei consumatori possono amare magari qualche forma più colorata piuttosto che qualche forma più grande o più piccola quindi non si può dire vale sempre in alcuni casi è consigliabile in altri secondo me si può tranquillamente evitare proprio perché il primo deposto mi permette di fare delle variazioni senza provvedere ad un nuovo deposito ottimo grazie io avrei concluso con le domande grazie Firenze grazie Firenze perfetto allora direi che possiamo chiudere qua il nostro webinar se non ci sono più domande se ne avete ancora non c'è nessun problema potete contattarmi direttamente via email oppure via il numero di telefono che vedete qua o ci trovate chiaramente online sui soliti canali ringrazio tutti per l'attenzione in particolare i nostri due esperti ancora veramente grazie per i contributi molto di valore e anche di dettaglio che siete riusciti a dare grazie Fiorenza e niente non mi rincane che salutarvi e augurarvi buona serata grazie altrettanto grazie